Opportuna una premessa, in primo luogo ha vinto la città. Dopo un periodo di assenza forzata, per le ragioni che tutti conosciamo, la giostra è tornata ad animare la vita cittadina come ai tempi migliori. Già questo è un traguardo importante che riporta quel clima di normalità che l'emergenza sanitaria aveva stravolto. In piazza ha vinto Porta Santo Spirito. Il quartiere della Colombina, dato come favorito alla vigilia, tiene fede ai pronostici e si aggiudica alla lancia d'oro. Gli sono bastati otto punti per vincere la 141esima giostra e raggiungere quindi Porta Crucifera in cima all'Albo d'Oro con 38 vittorie. Detto di una serata nella quale musici, sbandieratori e figuranti hanno saputo esprimere il meglio del loro repertorio, riviviamo in rapida sequenza l'andamento delle carriere. È l'esordiente Francesco Rossi ad aprire la piazza per Porta del Foro, una carriera con qualche difficoltà iniziale che il giostratore cerca di correggere prima dell'impatto con il buratto. Il tiro si ferma sul tre e mette subito in salita la giostra del Saracino per la Chimera. Per Porta Crucifera è Adalberto Rauco a scendere al pozzo per primo, una buona carriera nella quale il giostratore rosso-verde cerca di mirare al centro. Nonostante la massima concentrazione, non va oltre il quattro. Il terzo a scendere sulla lista è Porta Santo Spirito che manda per primo Gian Maria Scortecci. Il giostratore della Colombina, confermando le sue qualità, punta dritto al centro del tabellone e lo colpisce. Per il giallo-blu è un cinque. L'ultima carriera della prima serie è uno dei momenti decisivi della giostra. Sulla lizza va Saverio Montini per Porta Sant'Andrea, il cui esordio in piazza è sfortunato. Prima il cavallo si ferma e solo perché non ha superato la linea con tutte le zampe non determina l'annullamento della carriera. Poi nell'impatto con il buratto colpisce il 2, ma il punteggio diventa 0 a causa della lentezza della carriera. Si capisce che la giostra di Porta Sant'Andrea è ormai compromessa. Riparte per la seconda serie di carriere il giallo-cremisi Davide Parzi che colpisce il 4. Porta del Foro quindi sale a quota 7. Lorenzo Vanneschi è il secondo giostratore a scendere in piazza per Porta Crucifera. Si vede costretto a forzare il tiro cercando il centro, si ferma sul 2 e Porta Crucifera è fuori. A Santo Spirito basta il 3 per ipotecare la giostra. Per Elia ci cerchia niente di più agevole e non sbaglia. Solo la rottura della lancia potrebbe tenere in giostra Porta Sant'Andrea, ma la più bella carriera della serata, quella di Tommaso Marmorini, non basta. Il giostratore bianco-verde centra un 5 che vale gli applausi del suo quartiere, ma senza incidere sull'esito della giostra. Porta Santo Spirito quindi con 8 punti vince la lancia d'oro dedicata all'Istituto Tevenin. Nel quartiere giallo-blu è festa, sia in piazza sia dopo, con il duomo che si tinge dei colori della Colombina e con la festa dei vincitori al loro rientro a casa. Per la rivincita, appuntamento a settembre.